Siamo ritrovati qui su Non è mai troppo digital, un programma di Telefriuli per il Comune di Udine riguardante le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, quella che in generale possiamo chiamare cultura digitale, che sta profondamente modificando il nostro pianeta e le relazioni soprattutto che noi intratteniamo gli uni con gli altri con tutti gli attori sociali del territorio, che siano esse pubblica amministrazione, enti locali, imprese, semplici cittadini. C'è un adeguamento da dover affrontare nell'aver ben presente ed essere consapevoli che le nuove tecnologie della comunicazione stanno profondamente cambiando il modo di comunicare gli uni con gli altri, il modo di fare, pubblicare, vendere le cose online, come vedremo nell'e-commerce in particolare, nel modo stesso di dare notizia di quello che sta avvenendo nel mondo attraverso quello che viene chiamato oggi giornalismo 2.0, per significare il suo necessario adeguamento alle nuovi criteri, nuovi dispositivi che tutti quanti noi abbiamo come i telefoni cellulari oppure i tablet e al fatto che l'informazione ormai non è più un bene raro, ma è un bene molto diffuso online e forse come vedremo il problema non è tanto reperire l'informazione ma cercare l'informazione quella buona, quindi riuscire a superare il sovraccarico informativo che ognuno di noi ogni giorno accedendo alla rete internet incontra. Il cambiamento epocale riguarda tutti i settori della società moderna, in particolare per il motivo che si tratta di veicolare informazioni. L'editoria dei giornali e dei libri ha subito nel corso degli ultimi anni dei pesanti cambiamenti, sono cambiati gli strumenti stessi con cui si produce il testo e il contenuto e il tipo di documenti, sono cambiati i modi con cui vengono distribuiti sul pianeta i prodotti editoriali, testi scolastici, libri di narrativa, ma anche le news, le ultime informazioni attraverso le testate giornalistiche, che tutte quante ormai hanno dovuto adeguarsi a costruire un sito web fatto secondo certi criteri, in quanto deve incontrare un lettore appassionato che ha una certa aspettativa riguardo all'informazione. Quello che è cambiato fondamentalmente è che siamo passati da un modello di tipo broadcast, di comunicazione uno a molti, come la radio, la stampa, la televisione, ha un modello che invece prevede comunicazione molti a molti, cioè assomiglia molto di più ad una conversazione, a una relazione di tipo interpersonale, un dialogo. Questo significa che gli attori sociali, le imprese, non possono semplicemente pubblicare come se fosse una vetrina di visibilità, quello che intendono far sapere, ma devono essere consapevoli del fatto che ogni loro dire può incontrare dei commenti online da parte di persone che sui social network oppure sui siti e sui blog di informazione trovano la possibilità di lasciare la propria opinione, quindi di innescare conversazione. Quello che sicuramente possiamo vedere in questo momento in rete è forse la mancanza di una buona serie di comportamenti, non siamo abituati molto a scrivere online, facilmente interpretiamo male quello che gli altri dicono e quindi faticosamente seppur in maniera sempre collaborativa costruiamo insieme il significato degli eventi che accadono. Il giornalismo oggi è anche questo, forse meno dare rilievo all'informazione in quanto i naviganti online, le persone hanno scoperto che possono direttamente guardare il sito della ANSA, il sito dei giornali con le notizie pubblicate, Google News che fa una sorta di raccolta delle informazioni di news raccolte sul pianeta. I giornali forse avranno nel futuro un ruolo maggiormente dedicato all'approfondimento delle notizie rispetto alla pubblicazione lampo, anche perché ci sono strumenti in circolazione liberamente utilizzabili da ognuno di noi con cui viene facile e semplice dare notizia del territorio, degli accadimenti e degli eventi che vediamo con i nostri occhi. Il più famoso di questi è sicuramente Twitter, fondamentalmente Twitter vive molto dentro i telefonini cellulari perché vengono venduti già in modo tale che sia facile per loro connettersi con Facebook e con Twitter in particolare. Abbiamo visto nel caso di sciagure naturali, di terremoti, di rivoluzioni di popolazioni oppresse. Twitter rappresenta lo strumento con cui tutti possono mostrare quello che sta succedendo sul pianeta da qualche parte in questo momento e tutti gli altri, con il solito meccanismo dei social, cioè attraverso una serie di amicizie che io pratico online dentro questo social network, posso ulteriormente contribuire a diffondere questa notizia presso le mie cerchie sociali, presso le mie reti amicali. Twitter è molto strano perché posso scrivere dei messaggi di 140 caratteri, più o meno come gli sms sul telefonino, però permette una cosa che permette una possibile narrazione più lunga di uno spazio così breve, di così pochi caratteri, ovvero quello che si chiama hashtag ed è una parola chiave, è riconoscibile perché c'è un cancelletto davanti, un diesis, ma in questo modo tutti quanti i messaggi su Twitter caratterizzati da questa parola chiave possono essere in seguito richiamati e così mostrare in tempo reale tutti i commenti che le persone fanno su un determinato argomento, su un evento, su una situazione televisiva o della realtà che sta accadendo.